L'ultimo in casa ha battuto il Frosinone che è una squadra nei playoff, una squadra in salute con un punteggio abbastanza largo, ha vinto 4-0 per cui è un avversario temibile, saranno arrabbiati per la battuta dell'arresto a Livorno, però noi sappiamo cosa dobbiamo fare e daremo il massimo per portare a casa un risultato positivo. Noi dobbiamo essere bravi ad avere la maturità per affrontare le partite con la giusta concentrazione, non possiamo permetterci di avere cali di tensione perché poi diventa difficile e complicato, per cui dobbiamo mantenere sempre questa voglia, questa umiltà di affrontare gli avversari sempre alla stessa maniera, a prescindere dal nome sia della squadra sia dei singoli giocatori e portare avanti il nostro concetto di gioco. Grazie